Ringraziamo Gabibbo e gli diamo ad onore il nostro, diciamo, megafono, che è il megafono di Gabibbo che vuole soprattutto riconosce l'importanza come testimonia di questo progetto e soprattutto fare questo grande salto di qualità, un progetto importante che vede testimoni di Gabibbo soprattutto che vuole essere la nuova energia per difendere meglio i cittadini e i consumatori e soprattutto fare quel salto di qualità, perché oggi il tema delle insidie, dei tavocchetti, giorno per giorno, ne è una dimostrazione e prova del forte impegno, del forte testimonianza da parte loro e vedere questa unione tra Gabibbo e i consumatori sia la migliore catena di torna a sole per sperare un futuro migliore e soprattutto per fare questo salto in avanti e ce ne abbiamo fortemente bisogno, grazie Gabibbo e a te l'onore di poter avere questo megafono che è un po' il simbolo di questo progetto e credo che non potrai che testimoniarlo al meglio di te e di tutto quello che hai presente.